Non sia Petrosino, che lei certamente conosce, che è praticamente la guida delle imprenditrici femminili in Campania, ha detto di recente, in un'intervista proprio rilasciata a me, per poter risalire dal disastro economico in cui versa la Campania, è necessario valorizzare i giovani e il sistema industriale giovanile della Regione. Come può avvenire questo? Guardi, secondo me può avvenire reclutando sempre più giovani imprenditori, che diano forza, sostegno e lungimiranza a quelli che sono i nostri progetti. Questo è fondamentale, la condicio sine qua non, per poter iniziare un percorso insieme. Quando è che un imprenditore è giovane e un imprenditore è vecchio? Non è certamente una questione anagrafica. Secondo me un imprenditore diventa vecchio quando perde la voglia di fare. La voglia di andare avanti, di raggiungere gli obiettivi che di volta in volta un imprenditore deve prefissarsi. Allora diventa vecchio. Quali saranno le linee di azione della sua Presidente? Innanzitutto diffondere la cultura d'impresa. Cercare di intensificare il rapporto con gli istituti didattici a tutti i livelli. cercando di esemplificare il concetto di cultura d'impresa, di educazione imprenditoriale nelle scuole e nelle università. Un altro punto fondamentale, a mio avviso, è l'internazionalizzazione. Oggi effettivamente la condicio sine qua non. Un tempo, a mio avviso, era una opportunità. Oggi è una necessità. Non solo per le grandi imprese. Oggi è una necessità anche per le piccole e medie imprese. È chiaro che internazionalizzare per una piccola realtà, per una media realtà, è più difficile perché è meno strutturata. Però necessariamente deve guardare ai mercati esteri, individuando quello che è il mercato target, il mercato di riferimento, e chiaramente valutare quelle che sono le proprie forze economico-finanziarie per evitare di fare il passo più lungo della gamba. Ma credo che sia necessario oggi.